a pesaro una nuova casa a sostegno della povertà ritrovata sarà rimini era scappata da una settimana dall'ospedale psichiatrico pari opportunità dalla provincia un documento per un nuovo linguaggio i 20 anni di candela candelara inaugurano il natale che non ti aspetti in due pasticcerie caffè gratis per tutti per festeggiare un milione di tazzine servite una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 24 novembre che apriamo occupandoci di povertà ed emergenza abitativa tematiche che abbiamo già analizzato da inizio settimana attraverso il report annuale dell'osservatorio povertà di pesaro e che oggi trovano concretezza nelle taglie del nastro ad una nuova struttura dedicata agli indigenti della città nel nome di don giorgio giorgetti in via bovio è stata inaugurata oggi casa don giorgio un appartamento di proprietà della parrocchia di san cassiano ristrutturato e concesso incomodato d'uso alla caritas per diventare un luogo d'accoglienza capace di dare un tetto a sette persone in stato di povertà un'opera che ricalca pieno l'esistenza di don giorgio scomparso sei anni fa dopo una vita alla guida della parrocchia di san cassiano e della caritas diocesana spesa sempre al fianco dei più fragili casa don giorgio nasce nella logica di dare e di continuare a dare una risposta al tema dell'emergenza abitativa delle persone chiaramente un'opera segno che ha un grande significato in continuità con ciò che don giorgio giorgetti ha cercato di realizzare in questa casa noi abbiamo provveduto in accordo con la comunità parrocchiale di san cassiano alla ristrutturazione di questo ambiente per poter accogliere sette persone già sono state non dico scelte diciamo ecco concordate quattro ingressi quattro accessi a questa casa nella logica di una fase di accoglienza a un livello un po più alto rispetto diciamo ai bisogni delle persone nel senso che sono quattro persone che da un po di tempo sono accompagnate da caritas diocesana e assieme alle quali si intende diciamo ecco dare un futuro più dignitoso un futuro più fiducioso per queste persone questa opera è un piccolo segno di attenzione di una comunità nel poter garantire ai meno fortunati un tetto un riparo direi che questo fa parte di uno di quei diritti dell'uomo celebriamo fra pochi giorni il 75esimo anniversario della dichiarazione anniversario dei diritti dell'uomo e credo che il diritto ad avere un tetto un riparo sia un diritto fondamentale davvero un bellissimo progetto don giorgio era un parroco completamente a servizio della comunità dei più deboli dei più fragili tutto il giorno lavorava come un pazzo per provare ad aiutare coloro che ne avevano bisogno dedicare questo intervento nella parrocchia di san cassiano a lui davvero bello sono qua per questo e anche per ringraziare la caritas e tutte le aziende che hanno contribuito per questo luogo che sarà un luogo importante per tante persone che non hanno fissa dimora che hanno difficoltà abitative per un periodo della loro vita in particolar modo adesso che arriva l'inverno quindi un bellissimo intervento e credo che don giorgio sarà molto contento di vedere dall'alto quello che è stato fatto in suo nome la realizzazione di casa don giorgio è stata resa possibile grazie alla generosità della fondazione cassa di risparmio di pesaro e di aziende del territorio quali scavolini bs e lc mobili abbiamo appena fatto una fondazione degli imprenditori per cercare di allargare le risorse per queste iniziative in modo che tutti come ha detto il vescovo nella benedizione possano in ogni caso avere una casa come abbiamo tutti e dopo sette giorni in fuga è stata ritrovata ieri sera in buone condizioni di salute sarah tommassini 35 anni scappata dal reparto di psichiatria di muraglia dopo gli appelli disperati delle padre via social e quali sono seguiti decine di segnalazioni alle forze dell'ordine sarah è stata ritrovata da uomini dell'esercito alla stazione di rimini attorno alle ore 18 di ieri era ancora vestita indossando gli abiti con cui l'aveva descritta le padre al momento della fuga e domani 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne in quest'ottica la provincia di pesaro urbino ha presentato oggi un documento che intende contrastare le discriminazioni partendo da un corretto uso del linguaggio vediamo nella settimana della giornata contro la violenza sulle donne arriva in provincia il prontuario per un linguaggio che valorizza le differenze un documento realizzato dall'ente in collaborazione con creo nell'ambito del progetto formativo le parole creano la realtà si rivolgerà in primis al personale della provincia educando al contrasto degli stereotipi e alla promozione dell'uso di un linguaggio più inclusivo e rispettoso del genere dopodiché si aprirà anche alla società civile e alle altre amministrazioni pubbliche interessate la provincia si è attiva da sempre per la tutela delle pari opportunità e in questo cambiamento culturale sicuramente parte fondamentale il linguaggio che utilizziamo tutti i giorni le parole creano la realtà le parole sono parte integrante della realtà ed è importante come noi la realtà decidiamo di narrarle quindi le parole che scegliamo per questo la provincia di peso urbino ha deciso di partire dal proprio interno stilando un prontuario quindi che sia una guida sulla corretta scelta delle parole che utilizziamo partendo proprio dagli atti amministrativi il documento include l'introduzione della sociolinguista vera gheno che terrà una lezione magistrale sul tema le parole creano la realtà martedì 28 novembre dalle 15 nella sala pierangeli della provincia questo prontuario sicuramente ci comincerà a far interrogare sempre di più su quelle che sono degli aspetti che certe volte si reputano superficiali o scontati ma perché assessore assessora che differenza fa ecco io invito le persone a leggere il puntuario a cominciare a entrare in quella diciamo mentalità che ci possa portare a capire che gli uomini e le donne non sono uguali però hanno diritto ad avere una pari opportunità di trattamento perché se questo non avviene molte volte si poi si arriva a quella che che sono gli episodi di violenza che vediamo quotidianamente che purtroppo vanno vengono maggiormente conosciuti quando si parla di femminicidio ma che è una violenza che invece molte donne subiscono giornalmente questo in modo particolare nei luoghi di lavoro ed io voglio proprio mettere l'accento e l'attenzione il focus sulla violenza nei luoghi di lavoro perché troppe volte troppe poche volte se ne parla invece è il momento di poterne parlare è il momento di vedere quello che succede di far capire che cos'è una discriminazione di far capire che cos'è il mobbing e in questa maniera qua io penso che si fa un lavoro generale per tutta la società perché vediamo che la nostra società in cui così com'è non può più reggere il problema della violenza sulle donne e domani 25 novembre mancherà un mese esatto alle natale ed è anche la data che inaugura le decine di eventi natalizi presenti nella nostra provincia gli appuntamenti delle natale che non ti aspetti iniziano da candelara e dalla ventesima edizione di candele a candelara inizia la ricca proposta di eventi natalizi della provincia di pesaro urbino quella apparecchiata dal lavoro di squadra delle proloco unite dalla rete del natale che non ti aspetti festività 2023 2024 che verranno ufficialmente aperte sabato 25 novembre alle 10 30 con taglio del nastro a candelara un borgo in cui candele a candelara festeggerà la cifra tonda della ventesima edizione in due decenni in cui stata fra i protagonisti fondatori del natale che non ti aspetti è in cui stata un precursore del movimento dei mercatini natalizi nell'italia centrale con un evento tuttora senza uguali nel panorama nazionale abbiamo visto fin dall'inizio che davamo una una diversità della della manifestazione tutta concentrata sulle candele sul sentimento e sulla passione per le tante famiglie con bambini che hanno partecipato fin dall'inizio con grande successo partiamo il 25 il 26 di novembre per poi proseguire per altri tre weekend 2 3 8 9 10 e concludiamo con il 16 17 dicembre perché così riusciamo a distribuire al meglio anche la partecipazione perché voglio tranquillizzare in particolare i pesaresi che effettivamente riusciamo a controllare gli arrivi e le presenze soprattutto ecco parlo di pullman e di camperisti eccetera ma così non avviene come quello che magari è successo anni addietro per cui ci dicono un po spaventati ma veramente c'è troppa folla primo ringraziamento è ai volontari e anche ai residenti del paese di Candelara che con tanta pazienza ancora sono contenti di dare il loro contributo sapendo che avranno delle loro difficoltà per i weekend in cui abbiamo queste manifestazioni per il suo bentennale Candela Candelara si regala un giorno in più con ben nove giornate che avranno sempre il loro clou alle 17 30 e alle 19 orari in cui avvengono gli spegnimenti di tutte le luci artificiali in un borgo che viene ammantato solo dall'atmosfera natalizia della luce fioca di migliaia di candele attorno al tema delle candele si sviluppa poi un mercatino unico nel suo genere accompagnato da tante attrazioni per i bambini oltre naturalmente alla casetta di babbo natale dove vanno a consegnare la loro letterina ma giochi storici di legno e addirittura la novità di quest'anno è legata ad una giostra azionata pedalando una bicicletta candela candelara stringe anche una sinergia con liceo artistico mengaroni di pesaro che sarà parte integrante degli allestimenti del borgo con quattro installazioni alte due metri dislocate per candelara abbiamo accolto appunto subito l'occasione di partecipare a questo evento così importante e abbiamo deciso di far lavorare i ragazzi appunto della quinta b nel laboratorio di arti figurative e viste le tempistiche e la grandezza appunto delle opere da realizzare abbiamo deciso di mixare arti tecniche tradizionali con tecniche digitali quindi sono state realizzate queste quattro pannelli che in forex sono stati stampati appunto su forex e sono stati realizzati appunto dai ragazzi per metà con la colorazione digitale per metà con la tecnica della chiaroscuro con graffite su carboncino è stata un'esperienza molto piacevole per quanto lavorare sia digitalmente una cosa nuova ma anche manualmente sempre emozionante e restiamo sempre in tema natalizio perché domenica alle ore 18 ci sarà invece l'accensione dell'albero di natale di pesaro in una cerimonia che darà il via a tutti gli eventi di intrattenimento di pesaro nelle cuore natale pesarese che sarà trasmesso anche in diretta su rossini tv da piazza delle popolo dove come potete vedere è stato allestito un maxi palcoscenico che resterà permanente per tutto il 2024 accompagnando ogni grande evento di pesaro capitale della cultura la cerimonia di inaugurazione sarà dedicata alle tema della pace sarà narrata dalle voci delle coro del grillo d'oro insieme all'albero si illumineranno anche i portali di via san francesco piazzale colenuzzo piazzale lazzarini e corso 11 settembre e vi segnaliamo che lunedì 27 novembre ci sarà una giornata di sciopero delle trasporto pubblico adrebus ricorda come il sindacato abbia indetto uno sciopero che potrebbe non garantire le corse dalle ore 8 e 30 alle 17 dalle 20 fino a fine servizio le biglietterie potrebbero sospendere il servizio per l'intero turno e sarà inaugurati le 7 gennaio la nuova scuola primaria di tavola in strada delle piano dopo un percorso di reperimento fondi cominciato nel 2015 sta per arrivare a compimento il progetto da 4,3 milioni di euro che ha visto la costruzione di una scuola che ospiterà fino a 250 alunni una struttura in legno moderna antisismica ed edificata secondo i più efficienti criteri energetici insieme alla scuola dell'infanzia asilo nido e scuola secondaria prenderà così vita un polo scolastico d'eccellenza che andrà dai 0 ai 14 anni e ad urbino sono stati inaugurate le riqualificate scalete di collegamento sotto i torrecini di palazzo ducale i lavori dovevano terminare lo scorso giugno ma hanno avuto un ritardo dovuto alle radici degli alberi presenti che ha richiesto anche la realizzazione di un muretto non previsto nel progetto originario e al parco miralfiore di pesaro ha preso oggi il via il progetto ossigeno coordinato dalle labirinto cooperativa sociale alla sera degli agrumi erano presenti i rappresentanti delle scuole superiori giovani under 30 ed educatori che hanno accompagnato gli studenti in un percorso di progettazione partecipata in cui è stato stilato un documento che sintetizza idee e sollecitazioni scatturite dalle confronte che sarà condiviso con il comune per rendere ossigeno una realtà punto di riferimento della città e oggi alle pasticcerie alberini di pesaro in via nitti e nel corso 11 settembre è stata una giornata di caffè e cappuccini gratis per tutti i clienti questa la scelta dei titolari che hanno deciso di festeggiare così il traguardo di un milione di tazzine servite in ben otto anni di gestione un milione di tazzine di caffè servite in otto anni di gestione questo è il curioso traguardo tagliato dalle pasticcerie alberini quella di corso 11 settembre dove ci troviamo oggi e quella omonima di via nitti un traguardo che la famiglia santini che ha preso in gestione queste due attività otto anni fa ha deciso di celebrare oggi servendo caffè e cappuccini gratis per tutta questa giornata del venerdì 24 novembre insieme al nostro partner che è saccaria caffè con la quale collaboriamo da otto anni abbiamo fatto una stima abbiamo fatto e allora ragazzi con i chili che avete fatto di caffè facendo un conto di quello che possono essere gli scatti con un chilo avete superato il milionesimo caffè o ci state andando vicino e quindi da qui è nata questa questa gioia di far conoscere un pochino anche tutta la città chi non è il nostro cliente come lavoriamo noi perché non solo c'è una cura nella nelle materie prime nella sedazione dei prodotti che si mettono in tavola da mangiare ma anche sul caffè c'è una ricerca che noi insieme a saccaria abbiamo messo a punto quindi dalla selezione del caffè dalla manutenzione della macchina dalla cura con la quale si pigia il caffè si pulisce il macchinino tutto un insieme di cose che portano a lavorare in una determinata maniera in più mio figlio che è assistente maestro caffè ha fatto il percorso formativo l'anno scorso è arrivato terzo alle gare nazionali di latte art c'è tutto un mondo dietro come si monta un cappuccino come far diventare cremoso un cappuccino tutti i disegni che si fanno e quindi abbiamo pensato di offrire insieme a questi nostri partner anche trevalli che ci fornisce il latte questa giornata di festa che vogliamo condividere cade proprio anche nel black friday in modo tale da rimanere in tema con il discorso del delle caffè dei caffè di cappuccino offerti noi ormai l'abbiamo già già superato questo milione di caffè è però comunque è comunque un bel traguardo da festeggiare diciamo allora ci è sembrato consono e offrirlo a tutti quello che è il caffè cappuccino maggio ed ora parliamo di un altro appuntamento che parte domani 26 novembre da cartocetto si chiama trionfo gourmet e ce lo illustra il sindaco enrico rossi a due settimane dalla chiusura della 46esima mostra mercato dell'olio dell'oliva cartocetto prosegue il suo viaggio sensoriale con trionfo gourmet rassegna che vede quattro rinomati chef della provincia unirsi per esperienze culinarie straordinarie sostenuti da esperti sommelier e virtuosi ensemble musicali si comincia domenica 26 novembre con gli chef lucio pompili del simposium e tiziano rossetti dell'angolo divino di urbino in un'esperienza culinaria accompagnata dal percorso musicale intitolato non ti scordar di me canzoni e romanze da salotto è anche un po un preludio di quello che sarà lo straordinario progetto del primo polo performativo multisensoriale in italia che grazie a questo finanziamento di 2 milioni di euro da parte del ministero della cultura verrà realizzato all'interno del teatro del trionfo e trionfo gourmet cioè questi tre pranzi a quattro mani con anche in abbinamento i vini raccontati dall'associazione italiana sommelier e questi concerti dedicati alle pochissime persone che avranno accesso alla platea del settecentesco teatro del trionfo è appunto una sorta di preludio a questa immersione sensoriale in questo caso di gusto di olfatto di vista e anche di udito visto la musica ispirata alle genialità marchigiane ma che poi sarà anche rivisitata sulla base di una serie di contaminazioni che vanno anche fino al pop e al jazz della situazione e quindi dicevo che sarà un po una sorta di anteprima di tutto quello che negli anni a venire succederà all'interno del teatro del trionfo un percorso quello di trionfo gourmet coerente agli eventi di cartoceto che continuano a miscelare l'eccellenza agroalimentare con quella culturale questa non vuole essere soltanto un tre date di iniziative appunto per il 26 di novembre 3 dicembre e 8 dicembre ma vuole essere una delle tante declinazioni di questo format che abbiamo in testa di questo obiettivo che abbiamo in testa come modello di sviluppo sia sociale che economico per il borgo storico che parte per l'appunto da quella che è la centralità dell'elemento identitario di cartoceto e del suo territorio più allargato ovvero l'agroalimentare d'eccellenza ma poi si fonde si contamina appunto con tutte quelle che sono davvero le bellezze le eccellenze che possiamo anche esprimere per ciò che riguarda il patrimonio storico paesaggistico culturale come appunto lo è il settecentesco teatro del trionfo che nemmeno a farlo apposta nel settecento originariamente era un frantoio e un magazzino per l'ammassamento delle olive e poi è stato di lì a poco trasformato in quello che oggi conosciamo come uno dei teatri più piccoli ma sicuramente più fascinosi che abbiamo all'interno della regione Marche e con quest'ultimo servizio da cartoceto termina qua l'edizione del nostro telegiornale prima però di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti di questa serie delle weekend a cominciare appunto da questa sera alle ore 21 e 20 dove potremo rivedere lo speciale tv che abbiamo realizzato in occasione dell'inaugurazione delle gf medical center e ci proiettiamo a domattina dove come di consueto saremo in diretta alle ore 7 e 20 con la nostra rassegna stampa in diretta anche sulla nostra pagina facebook vi ricordiamo anche le repliche che vedete in grafico 8 e 20 12 e 20 14 e 20 e 18 e 20 e poi il grande appuntamento del weekend è quello dell'accensione dell'albero di natale da piazza del popolo di pesaro noi di rossini tv saremo in diretta alle ore 18 pesaro nelle cuore un natale da capitale l'accensione dell'albero con appunto anche come abbiamo detto durante il nostro telegiornale il concerto del grillo d'oro ed è davvero tutti vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata